ma cazzo dall'angolo le arese erano solo 25 no c'è uno sotto non mi ero manca accorto gg non c'è dietro bravo c'è dietro a preso lui non c'è non c'è eh lui c'era che è chiuso meglio io pensavo fosse nel garage c'è nemmeno dove sono io oltre a quella sinistra ma un altro sì attanto attanto c'è una specialista si si è scio vedo kill gratis c'è una accanto c'è una accanto sinistra sinistra bro madonna ciao ma erano tre quelli davanti bro e un altro team sì ma tutti sono da restare tutti no veramente no bro non fai care con quello non fai care con quello eh nemico nemico movimento qui c'è un bersaglio bersaglio attenzione bombardamento di pressione alleato in arrivo no eh no 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 sparati qui ne vedrai 나는 no 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 no